Una bambina di 4 mesi di nazionalità indiana è morta alcune ore dopo il suo ricovero nell'ospedale di Reggio Calabria, dove era stata portata per una laringite catarale subacuta. La procura della Repubblica ha disposto il sequestro della cartella clinica ed ha avviato un'inchiesta. Domenica scorsa il padre della bimba ha chiamato il centro operativo del 118 perché la figlia aveva avuto dei problemi respiratori. I medici dopo aver visitato la bambina hanno diagnosticato una laringite catarale subacuta. Con il passare delle ore le condizioni della bambina sono peggiorate ed i genitori hanno deciso di ricoverarla nel reparto di pediatria dell'ospedale di Reggio. Alcune ore dopo il ricovero la bambina è deceduta. I genitori hanno deciso di presentare denuncia e la procura della Repubblica ha deciso di sequestrare la cartella clinica. Sarà ora l'autopsia ad accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità. Non si ferma nemmeno dopo le decisioni del governo in materia di pedaggi la protesta degli autotrasportatori calabresi che da quattro giorni hanno dato vita ai presidi sull'A3 Salerno-Reggio Calabria, sulla Statale 106 e agli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Anzi, come conferma Tommaso Alessi di Trasporto Unito, una delle organizzazioni che hanno dato vita alle proteste, se non otterremo risposte siamo pronti a proseguire ad oltranza. Incassata la solidarietà di agricoltori dell'AMPA e trasportatori di farmaci che dicono di condividere le ragioni della mobilitazione, i manifestanti rimangono fermi con i loro autotreni in corrispondenza degli snodi viari principali della Regione. A quattro giorni dall'inizio delle manifestazioni i distributori sono rimasti oramai senza carburante sia lungo la rete autostradale che nelle stazioni di servizio urbane e della rete stradale ordinaria. Al momento, dice Antonino Pedà, presidente regionale della Federazione Gestori degli Impianti Stradali che aderisce a Confu Commercio, la situazione è questa. Si spera in uno sblocco della situazione nelle prossime ore. Da parte delle società petrolifere c'è la massima disponibilità. La penuria di carburanti che comincia a fare sentire i suoi effetti sugli automobilisti porta a escogitare anche delle vere e proprie frodi. A Isola Caporizzuto, nel Cortonese, il gestore di una stazione di servizio e un autotrasportatore sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri perché sorpresi, nottetempo, a sversare circa 10.000 litri di gasolio agricolo in una delle colonine. L'impianto di distribuzione è stato posto sotto sequestro. Rimarranno aperti anche sabato e domenica gli uffici del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria. La decisione fa seguito alla situazione venutasi a creare, riporto una nota, per lo sciopero degli autotrasportatori e le conseguenti problematiche che si sono create nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Questo ufficio ha informato le prefetture e le questure della Calabria della situazione in atto ed ha messo in moto un circuito in collaborazione con le aziende per tenere aperte le discariche. Dopo quattro giorni di fermo, prosegue la nota, è naturale che il settore faccia registrare delle situazioni particolari. Purtuttavia, per agevolare la soluzione delle stesse, l'ufficio del commissario resterà aperto anche nelle giornate di sabato e domenica. presenti il commissario Vincenzo Speranza per mettere in campo tutte le soluzioni finalizzate a risolvere i problemi. È ovvio che per il ritorno alla normalità servirà qualche giorno, ma per quanto di competenza questo ufficio dà assicurazione ai cittadini calabresi che si sta lavorando con il massimo dell'impegno per fare fronte alle esigenze segnalate anche dai comuni, in linea con il particolare input a tale riguardo del governatore della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. La carenza di benzina provocata dallo sciopero degli autotrasportatori sta creando disagio allo svolgimento delle udienze e dei processi nel distretto della DDA di Catanzaro. La Procura di Catanzaro sta cercando di razionalizzare le poche scorte di benzina a disposizione per far fronte ai processi nei tribunali del circondiario del distretto di Catanzaro. La DDA ha chiesto l'applicazione dei pubblici ministeri del posto per evitare il rinvio delle udienze. Per risparmiare il carburante si sta cercando anche di ridurre gli spostamenti dei magistrati che sono sottoposti alle scorte. Piena solidarietà agli autotrasportatori in sciopero, vittime di iniziative governative regionali in caute che senza interventi correttivi immediati produrranno la chiusura delle aziende locali di trasporto e la perdita di numerosi posti di lavoro. è quanto si afferma in una nota dell'Associazione Trasportatori dei Farmaci della Calabria che aderisce alla mobilitazione pur non potendo attivamente partecipare allo sciopero. Oltre 50 aziende che lavorano nel settore e che per disposizione di legge possono trasportare solo farmaci motivo per il quale non scioperano insieme all'intero comparto per evitare facili strumentalizzazioni afferma il segretario Luigi Aloe, rappresentano l'anello più debole dell'intera distribuzione e rischiano pertanto di pagare il prezzo più alto a causa di scelte governative non sufficientemente attente e soprattutto a causa della distribuzione dei farmaci disposti dalla Regione che ha indebitato l'ente senza produrre risparmi. La TF preannuncia che si asterrà da ogni attività il primo di febbraio in concomitanza con lo sciopero delle farmacie. Grazie per la visione!